52-53 ho conosciuto Aldo Moro, il Berlinguer. Tanta storia italiana, quindi non era preoccupato. Voglio dire, ho vissuto il rapimento Moro. Moro è stato rapito perché un qualche mio superiore mi tolse le possibilità di aggiungere al servizio di scorta all'interno delle vetture un'autovettura che seguisse alle spalle e potesse intervenire con i mitra spianati, capito? Marinelli può raccontarci tante cose, la dovremmo tenere qui un'intera puntata.